IPO di Ripple, forse abbiamo la data. Ciao caro amico investitore come va e bentornato sul mio canale, io sono Andrea. Oggi qui come sempre a parlarvi delle ultime novità sul mondo del cripto lute e oggi parleremo ovviamente anche di Ripple e del suo IPO ma ci saranno degli aggiornamenti molto importanti in quanto oggi è una giornata veramente importante per il mercato finanziario in quanto ci sarà la decisione sul tasso di interesse da parte della Fed ma oltre a questo altri avvenimenti veramente significativi che potrebbero andare a cambiare il mercato nelle prossime settimane. Andiamo a vedere tutto insieme come sempre in dettaglio però direi di non perdereci in troppe chiacchiere andiamo subito sul pc. Partiamo come sempre dal grafico di CoinMarketCap di Ripple che possiamo vedere proprio che Ripple è tornato sopra ai 60 centesimi dollaro da quando sto registrando con un volume di scambio nelle ultime 24 ore di oltre 2 miliardi di dollari quindi un aumento del 40% e questo sta proprio a significare che c'è veramente grande movimentazione al momento sul mercato di Ripple ma come dicevo all'inizio giornata veramente importante stasera in quanto ci sono dei dati significativi soprattutto partendo dalle ore 3 ci saranno ovviamente i dati sui nuovi lavori, le nuove occupazioni del lavoro poi ci saranno ovviamente i dati sulle scorte di petrolio greggio e soprattutto stasera intorno alle 7, 7 e mezza ci sarà ovviamente la decisione della FONC da tenere monitorato poi la decisione sul tasso di interesse di parte della Fed che al momento è del 5,50% e quello che è previsto ovviamente dagli analisti è ancora rimanere al 5,50% senza nessun aumento senza nessuna diminuazione se nel caso contrario dovessimo vedere una riduzione del tasso di interesse anche soltanto di 25 punti base potrebbe beneficiare il mercato delle criptolute e vedere un pump sul mercato nel caso contrario un aumento del tasso di interesse che io ovviamente non mi aspetto potrebbe essere negativo per il mercato e poi subito dopo ci sarà la conferenza stampa della FONC dove andremo a capire meglio in dettaglio quali saranno i prossimi sviluppi futuri oltre a questo volevo farvi presente anche questa bellissima notizia del mega progetto NEOM dell'Arabia Saudita dove propone di investire 50 milioni di dollari in Amoka Brands Animoca Brands è un famosissimo zienda dove investe soprattutto in giochi web 3 quindi giochi basati su blockchain un settore che io seguo moltissimo insieme all'intelligenza artificiale in quanto credo che nella prossima burrana l'intelligenza artificiale e gaming web 3 saranno dei prodotti veramente fantastici da seguire sul lungo termine comunque già che l'Arabia Saudita sta investendo su Animoca Brands potrebbe essere veramente interessante sul lungo termine questo fa anche proprio capire come l'Arabia Saudita sta sempre più improntando i suoi investimenti su un mercato basato su blockchain infatti come riportato loro è proprio l'obiettivo di questa partnership è promuovere lo sviluppo dell'infrastruttura web 3 nella regione NEOM in linea col piano Saudi Vision 2030 l'Arabia Saudita sta facendo dei grandissimi investimenti come quelli che hanno fatto gli Emirati Arabi durante i 30 anni precedenti e infatti guardate che potenza sta diventando Dubai stessa linea vuole seguire l'Arabia Saudita e vuole diventare anche lei un faro di riferimento per il mondo del web 3 oltre a questo dobbiamo anche parlare ovviamente dell'ETF Bitcoin infatti i grandi market maker sono in trattative con BlackRock per fornire liquidità per il suo ETF Spot Bitcoin e questo è molto fondamentale di fatto proprio Jane Street, Virtu Finals, Jump Trading e Udians River Trading hanno discusso proprio con BlackRock su un ruolo di market making per fornire liquidità e questo è effettivamente molto importante per il futuro dell'ETF Spot di Bitcoin che io credo effettivamente che ormai sarà una questione soltanto di qualche mese che verrà lanciato l'ETF Spot di Bitcoin di BlackRock ma come tutti gli altri ETF che sono in totale al momento 12 quindi questo qua è un ulteriore tassello che dà conferma alla prossima uscita dell'ETF Spot di Bitcoin ma ora passiamo sulle notizie sul Ripple come dicevo abbiamo visto il Ripple che è tornato sopra i 60 centesimi di dollari infatti sono state delle movimentazioni soprattutto dalle balene dove spostano 17 milioni in asset e questo potrebbe essere proprio la causa dell'inalzamento in questi giorni dal prezzo di Ripple perché moltissime balene stanno accumulando proprio XRP come visto proprio sull'XRP Ledger come riportato anche da Wall Alert 30 milioni di token XRP sono stati recentemente prelevati da Bybit e trasferiti su un portafoglio sconosciuto ma anche altri 50 milioni di token XRP sono stati rimossi da Crypto.com in un portafoglio sconosciuto sempre secondo Wall Alert come possiamo vedere qui da grafico e questo di solito viene visto appunto come gli investitori tendono a spostare le crypto loot fuori dall'exchange quando intendono passare ovviamente a holdare il token quindi si aspettano un aumento del prezzo sul lungo termine da parte di XRP invece quando di solito vengono rimessi sull'exchange è perché c'è intenzione di venderli quindi questa è una ottima notizia che può proprio sperare che si sta veramente cambiando il ciclo quello del beer market stiamo arrivando al prossima fase di ciclo quello del bull market dove vedremo un innalzamento dei prezzi delle crypto loot e poi come vi dicevo forse abbiamo proprio la data dove verrà annunciato l'IPO di Ripple forse sarà annunciata al prossimo swell di Dubai e vi avevo già detto in precedenza di segnare il mese di novembre come un mese molto importante per quanto riguarda Ripple infatti questo potrebbe essere la data decisiva dove verrà annunciato l'IPO e la data esatta dove si terrà questo evento a Dubai esattamente tra l'8 e il 9 novembre 2023 forse lì avremo la data ufficiale dove verrà annunciato l'IPO di Ripple un IPO tantissimo atteso da tutta la community che segue questo progetto qua oltretutto molti di voi me lo stanno chiedendo da tantissimo tempo come posso investire nell'IPO di Ripple io sono riuscito a trovare questo sito qui per voi do esattamente il link dove è possibile andare a investire in azioni pre-IPO quindi ancora prima che vengono annunciate all'IPO e possiamo proprio andare a vedere che qui nella lista lunghissima che c'è in tutte queste grandissime aziende troviamo anche Ripple dove è possibile andarci a investire e l'investimento parte da 2500 dollari e avrete un prezzo dell'azione di 57 dollari quindi se siete interessati ad investire nell'azienda Ripple al di fuori anche del token XRP questa potrebbe essere un'ottima piattaforma per voi per investire nel complessivo di questo token qua e nella loro azienda io avevo già affermato che andrò a investire anche in Ripple e non soltanto nel suo token XRP in quanto credo che Ripple stia facendo veramente qualcosa di grosso dietro le quinte sarà proprio lei una delle protagoniste di questo nuovo sistema finanziario globale che sta cambiando oltre a questo ovviamente ci sono tantissimi altri token da tenere d'occhio comunque ragazzi fatemi sapere sempre se questo video vi è tornato utile spaccando il tasto del like, iscrivendoci al canale e attivando la campanella delle notifiche e noi come sempre ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti ciao